Proprio con questi articoli, Istat prosegue la crescita degli occupati in un anno, mezzo milione in più rispetto al 2022. Ancora il giornale disoccupazione è giù, boom di assunzioni, il governo vince la sfida sul lavoro. Sono usciti ieri gli ultimi dati, Istat, sullo stato del lavoro nel nostro paese. Registrano una crescita dell'occupazione con un aumento di mezzo milione di lavoratori attivi in un anno e una decrescita del tasso di disoccupazione addirittura del 7,5%. Allora diamo il buongiorno a Linda Laura Sabatini, statista, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Sicuramente è un bel dato, è una bella ripresa anche per il nostro paese e se dovessimo fare anche un salto indietro erano tanti anni che non si leggevano dei dati così importanti. Allora sì, ma vanno ben inquadrati. Nel senso che noi abbiamo 520.000 occupati in più e la stragrande maggioranza sono ultracinquantenni, cioè arriviamo quasi al 90% del totale di questo incremento, che sono ultracinquantenni, soprattutto verso la sessantina. Cioè questo vuol dire che è l'effetto soprattutto della maggiore permanenza nel lavoro per la riforma pensionistica, che come sappiamo è elevato l'età pensionabile. Adesso si va in pensione a età sempre più avanzate. Quindi che cosa succede? Succede che sta crescendo da tanti anni il tasso di occupazione, la percentuale di occupati proprio nella popolazione tra 55 e 64 anni. Che è giusto che sia però così? No, certamente, anche perché non c'è una sostenibilità. Poi sarebbe molto difficile e sarà molto difficile in prospettiva poter pagare le pensioni proprio perché aumenta la popolazione anziana e diminuisce la popolazione giovane perché noi per tanti anni abbiamo avuto un calo di nascite, no? Però il problema che abbiamo, che questi dati ci dicono anche, è che non cresce a sufficienza l'occupazione giovanile. Ecco, però su questo vedo che la disoccupazione cala al 75%, come stiamo dicendo. Per i giovani al 21% e si tratta del tasso di disoccupazione comunque più basso registrato dall'aprile 2008. Quindi comunque in questi 16 anni è importante. Questo è importante anche se noi dobbiamo sempre ricordarci che dobbiamo guardare di più l'occupazione che non la disoccupazione perché a volte essere disoccupato non è solo non avere il lavoro ma non avere il lavoro e cercarlo. Molto spesso succede che tanti giovani, ma non solo i giovani, si scoraggiano nella crescita magari perché non lo trovano. Allora è sempre meglio vedere il risultato dell'essere occupato piuttosto che la disoccupazione perché la disoccupazione non contiene questa fascia di scoraggiamento che è molto diffusa al sud dove c'è meno lavoro è più diffusa, è evidente, no? Perché uno si stanca anche di cercarlo. Sì, diciamo che lì sarebbe un altro capitolo proprio da aprire anche su questa situazione perché è molto ampio. Un dato però interessante che mi hanno stampato proprio stamattina è l'occupazione femminile in Europa. Sì. Eccola qua, Italia 51,1%, Grecia 54,5%, Romania 57,9%, media comunque dell'Unione Europea 64,9%. Siamo gli ultimi, lo dico proprio chiaramente. Siamo gli ultimi, purtroppo siamo gli ultimi. Prima avevamo dietro di noi la Grecia, poi avevamo addirittura dietro di noi la Spagna, avevamo dietro l'Irlanda, avevamo dietro Malta che era ultima e noi non ci siamo mai risollevati. Ma qua c'è un problema di fondo che non si è capito nel nostro paese, che l'occupazione femminile non potrà crescere se non si investe seriamente nel abbassare il carico di lavoro familiare sulle spalle delle donne. Ci vogliono più servizi, servizi per la prima infanzia, educativi, servizi di assistenza per gli anziani e i disabili, perché e in più ci vuole una maggiore condivisione nella coppia, nella famiglia, delle responsabilità familiari e del carico di lavoro familiare. Se non si fa questo è molto difficile per le donne conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, tant'è che le donne lasciano il lavoro quando nasce un figlio nel 20% dei casi e questa è una percentuale altissima. Diciamo che molti riflettori si stanno accendendo proprio su quelle aziende che danno la possibilità proprio alle mamme e alle donne di poter comunque conciliare i due lavori. Le aziende da sole non ce la possono fare perché lo può fare una grande azienda e molte grandi aziende lo fanno, ma le piccole non hanno gli strumenti per poterlo fare. Noi siamo il paese delle piccole, quindi questo è un tipico terreno dove si devono sviluppare i servizi pubblici e questo per decenni non è stato fatto. Noi paghiamo questo prezzo. Su questo ci lavoreremo e anche noi ne parliamo tantissimo, però comunque nei dati che ho a mia disposizione la crescita maggiore dei posti di lavoro si registra proprio tra le donne, anche se come abbiamo detto però in Europa siamo tra gli ultimi. però rispetto comunque all'ottobre, novembre 2023, 258 mila da novembre 2022 quindi si raggiunge il record delle occupate. Però anche qui attenzione, perché anche qui sono tutte ultra cinquantenni in particolare perché è stato elevato l'età pensionabile delle donne. L'importante è che si lavori. L'importante è che si lavori, però attento, l'importante è che noi sviluppiamo l'occupazione giovanile, femminile al sud. È giusto quello che dice, l'importante è che si estenda la base lavorativa, ma dobbiamo aumentarla nei settori giovanili anche perché se no come innoveremo il nostro paese? La sfida è grande su questo. Abbiamo il collegamento Francesco Giuliani, avvocato tributarista. Buongiorno, benvenuto. Allora, in prospettiva, come si potranno consolidare i livelli occupazionali proprio in questo anno, quindi nel 2024? Io posso vederla dal punto di vista del fisco naturalmente e il fisco ha un impatto che può essere molto importante, molto rilevante sullo sviluppo economico. Se si entra nell'ottica che lo Stato deve essere partner del contribuente, non deve essere un nemico del contribuente, è chiaro che una politica fiscale virtuosa crea poi dei meccanismi per cui in conseguenza l'economia e quindi anche l'occupazione ovviamente migliorano. Purtroppo siamo in chiusura. Grazie Francesco Giuliani, però una cosa che mi sta a cuore e anzi la rinviteremo anche sono i salari, perché comunque anche se sono aumentati come abbiamo visto, però invece cosa che non è aumentato sono i salari e gli stipendi. Certo, sono molto d'accordo e noi siamo uno dei paesi avanzati tra l'altro che sta più indietro e che ha i più bassi salari e questa è una cosa che ci trasciniamo da molti anni. Aggiungiamo anche che abbiamo una parte vulnerabile del mercato del lavoro, cioè abbiamo persone che o stanno in part time involontario senza volerlo, quindi guadagnano meno perché lavorano poche ore ma vorrebbero lavorare di più o hanno lavori precari o hanno ambedue queste situazioni. Arriviamo a 4 milioni e 700 mila di queste persone, di più tra le donne, tra i giovani e al sud. Il che vuol dire che, attenzione, noi dobbiamo crescere l'occupazione ma dobbiamo crescere anche nella qualità dell'occupazione perché abbiamo già un'ampia fetta di occupati con bassi salari e forti vulnerabilità. E poco tempo a disposizione. C'è un bellissimo articolo proprio di Brunello Cucinelli, l'altro ieri, su cui parla proprio di questo. Grazie, grazie Linda Laura Sabadini, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi e agli ascoltatori. Grazie ancora Francesco Giuliani.